Quindi non tutti i presidenti delle banche americane la pensano allo stesso modo. Salve a tutti ragazzi, sono Marco Casario, sono suddatissimo, stavo facendo la mia routine di esercizi qua a casa, oggi non sono riuscito ad andare in palestra, ma volevo comunque fare un po' di esercizi. Quando? Mentre guardavo la televisione collegata ad internet, guardate un po' qui che cosa leggo, Bitcoin more than just a FOD, Morgan Stelly, Stanley CEO 6. Allora, che cosa vuol dire? Ho detto FOD ma si dice FED, credo, perché FED vuol dire capriccio in inglese, mania, capriccio, moda diremmo in italiano. Quindi sembra proprio che in risposta a quello che ci ha detto Jamie Dimon qualche giorno fa su presidente di JP Morgan, dicendo che Bitcoin era una frode, bisognava stare attenti alle criptovalute, le criptovalute non valevano niente, caspita ragazzi, sto sudando, non mi fermo più. Sembra proprio che invece il CEO di Morgan Stanley la pensi in maniera totalmente diversa. Andiamoci a leggere insieme l'articolo, o meglio, ci andiamo a focalizzare su alcuni punti. E poi ragazzi vi faccio vedere un po' che cosa è successo sui mercati, perché finalmente Bitcoin ha rotto il muro dei 4.000 dollari, l'ho fatto in realtà già ieri sera. Grosso impulso, sono due notizie che vengono dalle banche, vabbè la Morgan Stanley non è una banca centrale, ma sono due notizie che arrivano, uno dalla banca centrale con Draghi, vi ricordate che ho fatto un video ieri in cui ho detto che cosa, ieri o l'altro ieri perché stavo a Londra, quindi forse era l'altro ieri in cui ho riportato il comunicato stampa di Draghi, presidente della BCE, Banca Centrale Europea, che diceva che una banca centrale non ha il compito, non deve avere il compito di proibire o bloccare o bannare o regolamentare, anche ha usato la parola regolamentare le criptovalute, Bitcoin e le criptovalute. Oggi arriva quest'altra notizia di Morgan Stanley, sicuramente il mercato sta prendendo fiducia. Ragazzi ve l'ho detto circa una decina di giorni fa, quando stava crollando tutto, quando Bitcoin ha perso il 30% dopo la Cina, dopo JP Morgan eccetera, questi momenti del mercato rafforzano le criptovalute, non le indeboliscono, momentaneamente le possono indebolire, possiamo avere flessioni più o meno importanti del 15, del 20, del 30%, abbiamo visto flessioni su Bitcoin anche del 90% tempo fa, quindi, ma Bitcoin sta ancora qui, nonostante questi scossoni, Bitcoin e le criptovalute stanno lì, rimangono sul pezzo, continuano ad acquistare valore, anche se momentaneamente l'avevano perso. Ragazzi andiamo a vedere un po' che cosa è successo sui grafici, andiamo a vedere un po' che cosa sta dicendo il CEO della Morgan Stanley. Ci vediamo tra pochissimo, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, in che modo, fate clic sul like, io però prima torno a fare gli esercizi, e iscrivetevi, se già non l'avete fatto sul mio canale, fate clic sul tasto iscriviti, subscribe se avete la versione in inglese, in modo tale deve essere avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo contenuto e ormai ne sto pubblicando due o tre al giorno. Ragazzi ormai non mi ferma più nessuno, ci vediamo prestissimo, vi lascio ai grafici. Ciao ragazzi, buon trading a tutti, io però torno ad esercitarmi, a fare esercizi, ciao ciao. Bene ragazzi, partiamo un po' dall'articolo pubblicato su Bloomberg proprio poche ore fa, questo è l'articolo e l'headline dove l'ho letta prima, fondamentalmente quello di interessante da notare, lo stavo leggendo velocemente prima, che secondo James Gorman, che è appunto il CEO, il Chief Executive Officer di Morgan Stanley, Bitcoin non è una bolla speculativa, è molto di più di una FAD, ovvero di una moda, di un capriccio, quello che dice Gorman, e il concetto di currency anonymous, anonymous currency dice lui, e quindi di valuta anonima, è davvero un concetto interessante, è interessante perché per la privacy, la protezione della privacy che dà alle persone, è interessante perché è un sistema completamente decentralizzato, quindi sistema innovativo, poi insiste o meglio si concentra sulla tecnologia blockchain, e poi si lascia sfuggire o meglio, dice intenzionalmente che, lui ovviamente non ci ha investito in Bitcoin, figuriamoci, però ha parlato con un sacco di persone che lo hanno fatto, e dice che è ovviamente un mercato altamente speculativo, però non necessariamente è qualcosa che eredita, lui dice bad, usa la parola bad, cattivo, quindi è la naturale conseguenza della tecnologia blockchain, quindi davvero davvero parole positive, stra positive del CEO su questa valuta, su questa criptovaluta, e sul mondo delle criptovalute in generale, e poi dice, continua a dire sulla regolamentazione, vedete, what point do regulators, e fa riferimento all'esempio della Cina, decidono che vogliono controllare il flow, quindi l'uscita e l'entrata, i movimenti monetari per la money laundering, quindi il riciclaggio di monete per la privacy, e per tutte le altre ragioni, quindi fondamentalmente capisce il governo cinese, che dice di volere in qualche modo regolamentare o controllare il riciclaggio di denaro, però davvero ragazzi interessante questa posizione che prende Morgan Stanley, altro colosso bancario, e che cosa è successo sul mondo delle criptovalute? Intanto sul mondo delle criptovalute, eccoci qua, faccio un refresh semplicemente per andare a caricare, bitcoin sfonda i 4.000 dollari, sta qua vicino ai 4.200 in realtà, Ethereum ha un passo, ha un soffio dai 300 dollari, 299,50 dollari, fatemi togliere questo fastidioso pop-up, Ripple scende un pochino, perde un 2%, ma ieri aveva fatto veramente un'impennata importante, poi di Ripple ho parlato, di NIO ho parlato in passato, bitcoin cash torna a superare i 450 dollari, Litecoin ritorna e sfonda in maniera deciso i 50 dollari, siamo quasi a 55 dollari, c'è Dash invece che continua a fare un po' i capricci, guardate qua che movimento, magari poi di Dash parleremo in maniera singolarmente più avanti, c'è Yota che fa quasi un 9%, ragazzi guardate qua che impennata, grande impennata tra la giornata di ieri e la giornata di oggi di Yota, che oggi registra appunto nelle ultime 24 ore un più 10%, NIO perde qualcosina, ma ragazzi NIO ha fatto il 100% in 5 giorni, insomma facciamolo un attimo respirare, oggi fa un meno 10%, ci sta, è normale, del resto ci sarà stata enorme speculazione, avranno fatto un bellissimo pump and dump, anche Monero perde qualcosina, ma anche Monero era cresciuto molto, stiamo vicino di nuovo, vicino ai 100 dollari, 96 e 90, 97 dollari, Ethereum Classic fa ancora un po' di fatica, sui 12-13 dollari, però vedete che bella curva al rialzo, insomma ragazzi, le notizie positive che vengono dalla Banca Centrale Europea, che vengono da Morgan Stanley, sembra proprio che stiano dando una mano, se andiamo a vedere qua che cosa è successo nelle ultime ore su Bitcoin, vi ricorderete la mia analisi tecnica dell'altro ieri, in cui vi avevo fatto vedere questo testa e spalle qua su Bitcoin, e vi avevo disegnato questa linea che era la neckline, e vi avevo detto attenti alla rottura di questa linea, perché se dovesse rompere questa linea con forza e sfondare questi massimi qua, potremmo vedere finalmente Bitcoin arrivare ai 4000 dollari, ragazzi che cosa è successo? Guardate, rottura enorme, guardate che bella candela di rottura, questa era la candela per la dichiarazione della BCE di Draghi, e questa credo che è avvenuta dopo la dichiarazione del CEO di Morgan Stanley, e qui vedete, boom, grosso impulso rialzista, ritracciamento, impulso rialzista, ritracciamento, guardate che bello, questo ritracciamento dove è che va ad appoggiarsi? Ha usato come supporto che cosa? Che cosa era questa linea tratteggiata? Era una struttura di prezzo che avevo in passato, che avevo insomma disegnato qualche tempo fa, io poi le linee, le strutture di prezzo me le lascio sempre sul grafico in modo tale da ritrovarmeli, in modo tale che so che a questi livelli, a questi livelli c'è stata una struttura che in passato è stata sentita dalla valuta, ed ecco qui che dopo questo impulso fa un ritracciamento, e adesso vediamo, vediamo, speriamo di vedere arrivare a quest'altro rettangolo, con le linee mi segno le strutture minore, con i rettangoli le strutture maggiori di prezzo, qui abbiamo tra i 4350 e i 4400, dollari abbiamo una bella struttura che potrebbe sentire, essere sentita dal prezzo, e quindi che cosa potremmo vedere? Potremmo vedere che il prezzo arriva qui, ritraccia un pochino, per poi continuare a rialzo, questo sarebbe, è quello che vorrei vedermi, è quello che potrebbe succedere dal punto di vista della price action, almeno per come si è mossa adesso, guardate ragazzi, non è che mi sto inventando niente, sto semplicemente seguendo il movimento del mercato, per come si è sviluppato, guardate, impulso rialzista, ritracciamento, impulso rialzista, ritracciamento, un po' più lungo, lateralizzato, impulso rialzista, ritracciamento, quindi, se il mercato continuerà a seguire questo movimento armonico, allora mi posso aspettare, che si replichi, questa situazione qua di mercato, si replichi, per le prossime ondate, ok? Senza tira, ho visto un commento sulle onde di Elliot, ragazzi, pensare di usare le onde di Elliot, qua sul mercato delle criptovalute, è fantascienza, già è fantascienza, fare analisi sulla price action, metterci dentro Ichimoku, Bollinger Bands, e Elliot Waves, è un po' tirata per i capelli, quindi, non voglio nemmeno, nemmeno dirla, nemmeno mi azzardo a dirla, però questo è un bellissimo movimento armonico, quindi, potrebbe continuare, ragazzi, sono contento che dopo due settimane di bruttissime notizie su Bitcoin, finalmente sono portavoce di belle notizie, godiamoci questo momento, pensiamo bene, come al solito, alle nostre strategie di investimento su questo mercato, dobbiamo sapere bene che cosa fare, quando farlo e come farlo, non fatemi mai prendere dagli entusiasmi, come del resto, non fatevi mai prendere dalla paura, se avete un piano, se avete un trading plan, se avete una strategia, non dovete avere paura di nulla, perché sapete esattamente quando entrare al mercato, quando portarvi a casa i profitti, e quando uscire con le perdite, se non sapete queste tre cose, state lontano dai mercati, perché altrimenti state facendo delle scommesse, allora è più facile andare a vincere con i gratte vinci al bar, o è più facile andare a scommettere, se la Roma o il Milan, vinca la prossima partita domenica, e segni tre gol nel primo tempo, molto più facile, ragazzi, grazie a tutti dell'attenzione, buon trading a tutti, ci vediamo prestissimo, ciao!